Hey, benvenuti in questa nuova reaction, io sono Lonox e oggi andiamo a vedere insieme il primo trailer del film di Sonic. Partiamo subito! Sonic the Hedgehog Green Hills Mi sa che è appena passato Sonic e ha lasciato un bel laghetto Gli anellini Sega Fa man bassa di scarpette Sonic Stretching Partito Sacchio Ha fatto andare via l'energia ovunque Vabbè, faggliela dire una cosa però Non lo fa parlare A novembre Oddio quanto è brutto Mamma mia Sembrava più bello nella prima scena però Oddio è proprio brutto Comunque Jim Carrey interpreta Dottor Robotnik Che se non ci assomiglia per niente Voglio anche un laghetto di Sonic E' arrivata in Egitto Guarda questo, ho solo 9 milioni di tempi oggi C'è il contapassi Sonic È un bambino alla borsa Sì ma non è mio figlio Eccolo Eccolo Eggman Eccolo Adesso si è fatto vedere Ok Scegliamo una parola per definire questo trailer Cringe Direi che ci sta tutta Direi che ci sta tutta Non mi è piaciuta la canzone di sottofondo Sinceramente credo che non c'entrasse nulla Non ho molta aspettativa su questo film Sinceramente Ne ho molta di più per Detective Pikachu Che per Sonic Anche perché Sonic Ci ho giocato quando ero piccolo Ma non mi ha mai fatto impazzire più di tanto Una sola cosa è certa Quando abbiamo visto Sonic da dietro E che faceva stretching Sembrava carino Quando poi l'hanno inquadrato davanti Dio che cos'è Proprio brutto Ma è veramente brutto Però ovviamente hanno cercato di dargli Delle sembianze Un po' più da live action Un po' come hanno fatto per i Pokémon Però Non mi convince più di tanto questo Sonic Insomma Fatemi sapere cosa ne pensate di questo trailer Qui sotto nei commenti E ci vediamo alla prossima reaction Ciao